Il sistema vuole semplicemente una cosa, fondamentalmente vi vuole schiavi, ok? Ci vuole schiavi. Ci vuole schiavi che vuol dire? Vuol dire che noi non pensiamo, vuol dire che noi non diamo problemi, vuol dire che noi consumiamo, ci ammaliamo, quando andiamo in pensione cerchiamo di morire il prima possibile così non c'è da andare a pensione e in tutta questa vita lavoriamo per gli altri, rilavoriamo per aumentare il potere degli altri e soprattutto per confermare che questi determinati personaggi, questi determinati poteri hanno appunto il potere di comandare su di noi. E questo è quello che accade a tutti coloro che possono reputarsi schiavi, ok? Poi capita che qualche stronzo, strada facendo, passatemi il termine, gli venga travolto da un momento di risveglio, che non è un momento cazzo, è un momento di risveglio. Cioè quando tu a un certo punto dici, ma porca troia, ma io che cazzo ho fatto nella mia vita fino ad oggi? E in quel momento ti svegli. Ora che succede? Che quando ti svegli tu diventi un problema. E quindi che cosa accade? Qual è il programma che ha il sistema per i risvegliati? Lo abbiamo visto in Matrix, no? Le sentinelle sono le stesse persone che ti stanno a fianco, quindi quali sono le possibilità nel momento in cui ti risvegli? Vieni escluso dal resto, perché il tuo mondo comincia a dire, stai dentro una setta, ma che te stanno anfilando testa, stai a guardare quello che dice stronzate su internet, quello che ne so, tutte quelle cazzate lì, il baobah, tutte quelle cose là, il figlio di satana, tutte le stronzate. Quindi vieni escluso dagli altri, o vieni preso per matto, o vieni preso per psicolabile, e quindi ti mettono sotto psicofarmaci e ti stroncano, oppure ti isolano, oppure, e qui ve ne aggiungo un'altra, fanno sì che tu ti arrenda. Ed è questo quello di cui mi sono accorto ieri. Ultimamente molti di voi mi hanno visto molto cinico, avete visto che non faccio più corsi dal vivo, avete visto che non faccio più coaching, avete visto che sto facendo sempre meno video, se non questo, perché questo è il mio diario di viaggio. Sto facendo sempre meno, ma perché? Perché in qualche modo, passatemi il termine, mi ero rotto il cazzo. Detto veramente così, ma non perché mi ero rotto io di farlo, mi ero rotto di vedere o in quale maniera venissero strumentalizzati i miei video, o i miei strumenti, o i miei consigli, o come venissero presi per essere utilizzati non per essere risvegliati o per cambiare qualcosa, ma per potenziare ancora di più il proprio ego. Oppure, mi ero visto, mi ero visto, anche dalle varie domande che mi accadevano, mi rendevo conto che la gente fondamentalmente non li vede, o se non li vede, vede all'interno di quello che cerchi di comunicare quello che vuole, per confermare quello che ha dentro. Ricordiamoci che la maggior parte delle operazioni dello schiavo, cioè uno schiavo, non vuole crescere, vuole avere conferma di avere ragione. Quindi si fa un'idea e cerca e vede soltanto quello che gli serve per poter confermare la sua idea o la sua credenza. Ecco perché ho fatto la maglietta di avere ragione, tra l'altro non la porto, oggi ci stava bene la maglietta di avere ragione. Nel momento in cui, ed è fantastico perché a volte mi capita di fare video di un'ora e la gente commenta un passo di un secondo, di cinque secondi, dice ah perché tu hai detto in quella frase, capito? Contestualizzalo nell'ora in cui ho parlato. Non vedere soltanto quella frase perché è quella che ti fa comodo per poter avere ragione. Ma poi fondamentalmente le persone che vogliono avere ragione non vogliono cambiare. Attenzione, ricordiamoci, puoi essere felice o avere ragione, puoi cambiare la vita o avere ragione, puoi diventare ricco o avere ragione, puoi essere sereno o avere ragione, metteteci quello che cazzo vi pare, puoi essere sano e felice, puoi guarire o avere ragione, insomma puoi avere ragione e avere una vita di merda, oppure puoi smettere di avere ragione, aprirti. Ma nel momento in cui ti apri, cioè nel momento in cui decidi, scegli di non voler avere più ragione, lì inizia il risveglio. Il problema è quanto dura e quanto ci mette l'ambiente circostante a far sì che quell'attimo di risveglio si ritrasformi in un sonno profondo appena possibile. Io mi sono dovuto mi sono dovuto isolare, perché mi sono letteralmente isolato dall'altra parte del mondo, tra l'altro, proprio perché alla fine innanzitutto posso dedicare più tempo a me stesso, posso crescere, ma mi sono reso conto di essere diventato sempre meno tollerante nel momento in cui lo schiavo si risveglia e quindi ha un attimo di risveglio, ha un vero e proprio risveglio, cioè si rende conto che qualcosa non va, si rende un po' come in Matrix, no, cioè tu sai che Matrix è tutta attorno a te, non la vedi, non la capisci, la percepisci, ma non sai che cos'è. A un certo punto cominci a vederla, cominci a vederla e da quel momento ti inizi a svegliare, che cosa succede nel momento in cui ti svegli che tutto attorno a te cerca di ributtarti dentro, quindi gli schiavi attorno a te ti isolano, oppure ti danno del matto, oppure ti mandano allo psicologo, se sei giovane ti possono comandare, se hai dei genitori cominci a dir cose del genere, oppure fanno in maniera tale che tu ti isoli da solo o che addirittura ti arrenda. Ed era quello un po' che era accaduto a me, cioè ero diventato intollerante appunto dove eravamo rimasti, ero diventato intollerante alla gente. Perché? Perché fondamentalmente le persone vogliono avere ragione. Quindi che cosa faccio? Se io devo frequentare delle persone, cosa succede? Innanzitutto si parla di cose banali, difficilmente puoi trovare qualche ispirazione, sono pochissime le persone con cui puoi parlare con uno scambio di pensieri che ti possa con uno scambio di pensieri che ti possa in qualche modo lasciare qualcosa. Cioè se io devo scegliere tra una serata a cazzeggiare con una birra e parlare stronzate e leggermi uno dei 700 libri che c'ho da leggermi, la bilancia pende mostruosamente verso un libro o qualunque altro studio verso qualunque cosa che possa essere sicuramente più interessante. A meno che non ci fosse uno scambio di pensieri interessante, ma nella maggior parte dei casi ti ritrovi a scambiare pensieri con qualcuno che vuole semplicemente avere ragione e che in realtà non vuole avere un scambio di pensieri, cioè vuole convincere te che il suo pensiero è quello ed è giusto. Ehi, vabbè, sti cazzi, cioè ti do già ragione ma me ne vado a leggere il libro, famo prima. Ma non solo, a mano a mano che vedi questo ti rendi conto come le cose vengono strumentalizzate per appunto il concetto del proprio ego e ti rompi un po' le palle. Quindi fondamentalmente ti arrendi, cioè ti chiedi perché dovrei farlo, cioè perché io dovrei dedicare il tempo a gente che o vede quello che vuole o usa gli strumenti per vedere quello che vuole o, peggio ancora, usa gli strumenti per potenziare il proprio ego per vedere ancora di più quello che vuole e quindi per avere ancora più potere che esattamente quello che vuole il sistema. E quindi così dopo un po' ti arrendi, no? Ti arrendi, ti chiedi che cazzo fai a fare e ti dedichi a qualcos'altro. Però, ieri mi sono reso conto di questo. Di nuovo ancora, grazie a un film dei Wachowski, come i Wachowski, per me sono sempre stati i Wachowski Brothers o Sister ormai, sono quelli che hanno fatto Matrix, sono quelli che hanno fatto V per Vendetta, sono quelli che hanno fatto Claude Atlas, sono quelli che hanno fatto Sense8. E ieri guardando Sense8 sono ritornato, o meglio ho avuto uno di questi momenti in cui mi sono reso conto di come fossi finito all'interno dello stesso schema. Cioè, io mi fossi arreso. E arrendendomi è esattamente la cosa che vuole il sistema. Cioè, che se tu diventi uno che può rompere le palle e che può risvegliare gli altri, facciamo in modo che se non ti possiamo fermare noi, se non ti possiamo in qualche modo bloccare, se non ti possiamo isolare, se non ti possiamo psicanalizzare, se non ti possiamo sminuire, se non ti possiamo attaccare, se non ti possiamo fare niente, allora ti devi arrendi tu. L'abbiamo visto anche questo in Matrix, l'abbiamo visto in Sense8, l'abbiamo visto in tanti dei film di Watch Dogs, infatti mi piacerebbe tantissimo poter parlare con loro per capire da dove gli arrivano queste informazioni, perché ne sanno. Ora, o sono semplicemente bravi, o sono dei risvegliati e usano per fare soldi e avere fama, oppure forse, perché se andate a vedere nei loro film, o nelle loro serie, il messaggio è sempre lo stesso, cioè se è una serie di messaggi che parte da Matrix e lo trovate in tutti gli altri film, che è sempre lo stesso, è sempre lo stesso. Ora, perché mi ero arreso? Perché fondamentalmente, se prima l'idea era quella di risvegliare in qualche modo quanta più gente possibile, ultimamente, in realtà l'idea come unica soluzione valida per cambiare questo mondo è palese, cioè l'unico modo per far sì che un virus chiamato essere umano si diffonda è l'estinzione. Ma, ok, è una speranza vana, cioè sperare che ci estinguiamo, sì, ma mi rendo conto che uno di quei sogni, sai, tu dici che cosa fai? Sogni l'estinzione della razza umana? Sì, io per ultimo, cioè voglio essere sicuro che l'ha fatti fuori tutti. E questo qui, per carità, è un sogno, perché questo permetterebbe un reset e bene o male si ricomincia da capo e famo prima. Cosa che accade, per carità, cioè in realtà stiamo andando verso l'estinzione, ma è un'estinzione ben più programmata. Ma in realtà questo qui, cioè avere questo pensiero non cambia le cose, ma soprattutto non ottiene l'estinzione. quindi è un pensiero perfettamente inutile, cioè non serve. È un po' come combattere per, che ne so, per eliminare la fame del mondo, oppure per eliminare le banche. Cioè è inutile, stai combattendo contro i mulini a vento. Qui non ha senso, cioè un pensiero o un sogno, un obiettivo che non sia realizzabile non ha senso. Anche perché è una delle cose che insegnavo, se andate a vedere il corso gratuito sulla realizzazione degli obiettivi, una delle prime regole dell'obiettivo ben raggiunto è che l'obiettivo sia raggiungibile. Quindi che cazzo immagina fare l'estinzione della razza umana se non è raggiungibile? Così come che cosa immagina fare il risveglio della razza umana? Perché tanto è raggiungibile. Perché sono passato da una parte all'altra. Ho detto ok, non li posso svegliare, a sto punto estinguiamoli. Ma tanto non li posso estingue né che posso fare io che posso mandare una bomba. Potrebbe farlo qualcun altro. Qui non ha senso. Ora immagino che questo discorso può far paura o dice oddio questo qua sta a pensare veramente di estinguere la razza umana. La sto ragionando in maniera molto razionale in favore della nostra terra. Cioè di chi ci ha creato. Noi fondamentalmente siamo un virus. Cioè esattamente come quando i medici cercano di eliminare un virus. Gli danno gli antibiotici. l'essere umano è un virus. Quindi se dovessimo fare la stessa cosa l'unica maniera è quella di di estinguere. Però siamo talmente tanto diffusi che diventa difficile. Quindi è più probabile che portiamo noi alla morte la nostra terra piuttosto che la nostra terra porta la morte a noi. Ma a prescindere da questo che è una cosa immutabile a quel punto mi sono detto ma che serve? Cioè il fatto che io mi sia in qualche modo arreso a che cosa serve? Perché in realtà io dico sì è vero che in qualche modo l'essere umano non si potrà risvegliare o le cose non potranno cambiare ma è anche vero che ho migliaia di persone che scrivono che hanno scritto che ho sentito che ho conosciuto che sono spariti che hanno cambiato vita che hanno che sono guariti grazie in qualche modo non a cose che hanno fatto con me ma all'ispirazione che hanno preso da ciò che dicevo quindi lì mi sono detto ok i corsi non mi servono è inutile farli le coaching private è inutile farle perché tanto la gente non è che mi chiede dovrei prenderle in giro perché mi dice ma sai non è che ci possiamo sentire mezz'ora su Skype così mi risolvi questo e quest'altro perché ti dovrei prendere in giro cioè non mi chiedete cose del genere non le faccio perché per fare qualcosa nella mente di una persona dovrei conoscerla alla perfezione per conoscere la perfezione dovrei viverci forse per anni 24 su 24 al giorno assieme il che è impossibile quindi prenderei soltanto in giro però ciò che penso che il sistema anzi più che penso credo di esserne certo ormai che il sistema faccia è quello che ha fatto da sempre quello che faceva prima quando bruciava i libri perché non volevano che la conoscenza si diffondesse quello che facevano prima bruciando le streghe o bruciando i vari illuminati come Bruno e compagni cioè noi abbiamo vissuto 10-15 generazioni di censura censura a livelli diversi prima venivano bruciati poi venivano torturati prima era così se tu te ne uscivi con un con un con un'idea nuova ma non esisteva cioè torturato subito finché non te fanno passare la voglia di dirla ed era quello l'arrendersi non è cambiato tanto cioè non è cambiato tanto non è cambiato tanto perché il se ci pensate il torturare una persona con i vari strumenti di tortura medievali o torturare oppure torturarla in qualche modo facendo credere che quello che sta facendo è inutile credo sia la stessa cosa anzi peggio ancora credo che la tortura ancora peggiore sia stata quella di ed è quella che più o meno hanno vissuto buona parte degli scienziati degli scopritori è quella di creare un di studiare di creare di inventare qualcosa che potrebbe cambiare il mondo vedi l'energia nucleare ed essere usata per scopi bellici per scopi di controllo e potere quindi l'energia nucleare invece di migliorare il mondo completamente come sarebbe potuto essere perché tutti ormai potremmo avere energia gratuita o le scoperte di tesla o comunque tutte le altre eppure le hanno le hanno usate per scopi bellici ieri vedevo l'utilizzo di una tecnologia come può essere quella dei droni fantastica che tra l'altro tra un po' ci permetterà di avere tra un po' vedremo un sacco di droni in giro ma qual è la cosa bella o brutta come al solito che è una tecnologia nata per migliorare la vita delle persone è stata trasformata come al solito per scopi bellici di controllo e potere tra l'altro con un'arma mortale cioè hanno creato dei mini droni così che possono essere inviati a milioni sulle città con una carica esplosiva e con un'intelligenza artificiale interna per cui vanno direttamente sulla testa della persona designata o all'interno di un range di persone designate quindi età sesso eccetera e l'ammazzano all'istante senza possibilità di scappare cioè queste sono armi di distruzione di massa chirurgiche ma che in mano a un potere forte potrebbero essere devastanti ovviamente queste armi non è che le vendono soltanto a chi dovrebbero essere i buoni ma li vendono pure i cattivi e se domani a qualcuno che girano i coglioni con quattro soldi perché ho sentito la conferenza 25 milioni cioè una cazzata 25 milioni di dollari sono veramente spiccioli possono avere un intero cargo quindi un intero aereo pieno di questi mini droni tanto da ammazzare mezza città tra un po' i terroristi non ci avranno più bisogno delle bombe o dei fa esplode aerei in giro basta che ci mandano questi dronini e fanno fuori mezza mezza nazione oppure chi vuole far avere vuole avere vuole creare la paura del terrorismo ci vuole un attimo a mandare un po' di questi in giro e fu fuori un po' di gente quindi la strategia del terrore è sempre la stessa ma vale sempre lo stesso principio qualunque cosa che nasce per il bene prima di tutto viene utilizzato per il male sempre per lo scopo di controllo e potere ed è un po' ed è per questo che poi spesso e volentieri gli scienziati si arrendono e dicono andate a fanculo a sto punto io non studio più un cazzo visto che se io devo usare la mia scienza le mie scoperte la mia passione per poi darla a te e usarla per controllare i popoli o per far saltare in aria in tere città vaffa cioè ci sta pure ed è questo l'arresa cioè le persone risvegliate in qualche modo le portano ad arrendersi perché? perché sfruttano questo principio cioè o brucio quindi o denigro le tue conoscenze in maniera tale che la gente ti prende per matto e questo lo vediamo tutti i giorni con gli influencer è una cosa abbastanza normale oppure facciamo in modo che le tue informazioni vengano usate in male per aumentare il potere cioè tu che crei qualcosa per migliorare il mondo noi lo prendiamo lo usiamo per i cazzi nostri così che tu smetti di creare queste cose e la smetti e ritorni a essere schiavo e a pensare agli spritz questo schema qui l'ho visto migliaia di volte l'ho visto nel mio piccolo anch'io cioè tutto quello che ho scoperto che ho compreso sulla mente umana che ho studiato che ho realizzato che ho che ho creato veramente da zero fortunatamente che non l'ho trasmesso in pieno a tutti perché già quel poco che ho trasmesso è stato usato sempre per lo stesso motivo quindi lo schema si ripete costantemente e a quel punto ho detto cioè mi sono reso conto di essere finito in questo stesso schema cioè mi ero arreso io non studio più per migliorare il mondo il mondo può essere inteso il mondo di qualcuno perché basta che una persona viva meglio grazie a quello che hai fatto va bene in realtà questo è accaduto a migliaia di persone ma tante altre vedi che l'hanno usato in peggio cioè per qualche migliaio di persone a cui hai migliorato la vita o che hai cambiato la vita hai creato tanti altri potenziali terroristi se così si può dire che usano le tue conoscenze come armi invece che come che come che come beneficio per tutti l'abbiamo visto anche con la PNL ragazzi la PNL nasce come come tecniche di psicoterapia quindi per per curare veramente i malati incurabili cioè quelli che avevano presi per matti pesantemente e poi oggi la vediamo utilizzata per la vendita per la manipolazione per la politica è sempre così cioè tutto ciò che viene scoperto per il bene del mondo alla fine viene usato sempre prima per il male ma perché? perché fondamentalmente chi lo utilizza per il potere e per il controllo c'ha più potere c'ha più soldi cioè ragazzi è storia che noi abbiamo ci sono scienziati che hanno inventato le macchine ad acqua ma da decenni ma avete mai visto un progetto del genere? sapete che cosa accade? e tra l'altro alcuni li ho conosciuti anche o che hanno creato dei motori particolari o che hanno creato il turbino o che hanno inventato delle cose sapete che succede? partono con i migliori propositi partono con i migliori propositi facciamo diciamo questo sarà per il mondo per il pubblico energia gratis macchine gratis bla 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 poi che succede? se arrivano davvero davvero a costruirlo sapete che cosa accade? che arriva la prima azienda con un prestanome comandato da qualcun altro che ha un prestanome comandato da qualcun altro che ha un prestanome comandato da qualcun altro che chissà che cosa fa viene lì ti lascia due tre milioni di euro e se la compra e se non gliela vendi ti fa fuori a te ai progetti ovviamente se la compra quel progetto viene buttato da qualche parte per evitare che tu inventi qualcosa che distrugga completamente il mercato ad esempio dei combustibili fossili su cui si manda si manda avanti potere immenso così come è successo a Tesla Tesla ti inventa la corrente senza fili e hanno fatto fuori tutti i progetti a lui perché? perché perché tra l'altro era finanziato se non ricordo male a JP Morgan che era quello lì che aveva la che aveva la aveva le più grosse produzioni di rame quindi conosci la Cash Foundation allora Daniele io mi ero interessato di Cash per un po' ma non ha portato niente di concreto Cash ha detto soltanto un sacco di chiacchiere almeno fino a qualche anno fa poi non ho più visto niente cioè ha detto affatto ma nessuno ha avuto non so se ha distribuito realmente cioè se qualcuno è riuscito a avere i suoi generatori perché nessuno ha parlato più di Cash in giro l'avevo aveva fatto anche delle conferenze in Italia mi sembrava una grande bufala di quelle impostate per bene comunque se avete informazioni su Cash e soprattutto se ha fatto qualcosa di utile cioè che qualcuno ha il suo generatore mi piacerebbe ditemi dove state più un aereo venga a vedere perché io sono il primo che se riuscissi a trovare un generatore magnetico o al plasma o quello che voleva creare lui sono il primo a prendere un aereo venirmelo a testare io di persona con una persona che conosco e che tra l'altro sta qui in chat che sta studiando anche lui una cosa del genere e veniamo a verificare se il generatore funziona davvero se non è una sola come ce ne sono tante e siamo i primi a diffonderlo al mondo ma a quanto pare ancora nessuno ci è riuscito qualcun altro dice Daniele hai sentito parlare di Coen ragazzi Coen per carità ne ho parlato già un sacco lasciate per sono anni che sta dicendo che vedrà sto reddito pure è una delle più grosse sole c'è uno dei più grossi ponzi generati in Italia ma ancora gli state dietro dai cioè l'utilizzo della comunicazione nel modo più manipolativo possibile vi convince nell'ottica di soldi facili e gratuiti e nel frattempo vi leva poco 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 per volta e poco per volta nessuno gli farà mai causa e tutti vi erano e questo qua si arricchisce cioè lo conosco da anni stiamo aspettando 3-4 anni che qualcuno vi ha una lira nessuno l'ha presa ma basta vedere quello che dicono cioè non c'è niente di verificabile ma poi soprattutto è assurdo cioè basta leggere leggete i pdf che danno e sono assurdi cioè se conoscete l'italiano sono assurdi sono delle chiacchiere sono sono come si chiama il cat e a volpe di pinocchio uguale cioè la stessa cosa quindi insomma quello a cui ero arrivato è che da un certo punto di vista ero arrivato appunto ad arrendermi ma mi sono reso conto che stavo facendo il gioco del sistema quindi di fondo quello che voglio riprendere a fare non è tanto quello di buttarvi giù cioè ok voglio essere realista non voglio prendervi per il culo già c'è tanta gente che vi prende per il culo e che vi prende per il culo per avere guadagni denari potere ammirazione eccetera ma nel realismo non voglio smettere di ispirarvi non voglio essere non voglio smettere di essere una fonte di ispirazione perché è già stato fatto tanto in passato e secondo me si può far tanto in futuro ma l'ispirazione non devo essere io attenzione cioè quello che vorrei farvi comprendere e secondo me sarà quello su cui mi vorrò muovere sempre di più è è il fatto di ispirare la vostra parte più profonda nel volersi impegnare a tutti i costi a risvegliarsi cioè partiamo dal principio che siamo tutti schiavi e ci hanno condizionato veramente bene perché ve lo posso garantire io studio comunicazione da loro cioè io studio comunicazione da da quello che hanno infilato nelle nostre menti iniziando dalla mia perché fondamentalmente io sono la mia prima cavia vivendo costantemente con me stesso io sono la cavia migliore per me stesso e mi rendo conto di come pur essendo estremamente lucido e avendo tante conoscenze questo non mi porta a non essere stato condizionato perché i condizionamenti sono stati a monte quindi a mano a mano divento diciamo che sfoglio un pezzo di cipolla in più la nostra vita è un po' come una cipolla ricordatevelo ogni quando pensate di aver tolto il primo strato cioè quando pensate di aver tolto uno strato avete tolto solo il primo strato e poi ce n'è un altro 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 ancora e a quel punto essendo io la prima cavia di me stesso mi rendo conto che i condizionamenti che abbiamo sono veramente tanti ma è anche vero che essendo io la migliore cavia di me stesso mi rendo conto che si possono si possono superare ma non si superano perché qualcuno ti dà la bacchetta magica non si superano perché fai il corso di tal dei tali o non si superano perché fai il corso che ti è costato 4, 5, 3, 2, 1000 o quello che sia non si superano così quello è ancora un mettere la speranza al di fuori ragazzi che cosa cambia avere fede in Gesù Cristo che ci cambia la vita nella Madonna che ci fa vincere all'otto o nel formatore di turno che ci fa essere felici o che ci risolve il problema di turno o la fobia o la non ricchezza la povertà la malattia eccetera o mettere ancora di più le nostre speranze nel medico di turno che ci guarisca cioè non è che cambia tanto è una forma diversa di religione ma il cristianesimo il buddismo l'islamismo o il medicismo o il formatorismo cioè che cosa cambia tu hai fede che esiste un tizio immaginario lassù che ti può aiutare a cambiare la vita oppure hai fede che esiste un medico di là che ti può guarire oppure hai fede che esiste un formatore o un guaritore o qualcuno che ti può cambiare con una bacchetta magica dentro dentro la capoccia da da in testa e tu guarisci e che cambia? diamogli un nome ma è un'altra forma di religione né più né meno ricordatevi però che in tutte le forme di religione c'è una costante c'è una cosa univoca c'è un pezzo che è la base portante delle religioni che ricordiamo sono il mezzo migliore per condizionare elementi perché usano tutti gli schemi per della manipolazione delle masse tutte questo vale per la per la medicina beh vale per tutto c'è una base di fondo dare la responsabilità fuori tutto ciò che vi viene insegnati sin da piccoli vi porta a dare la responsabilità fuori c'è deve stare sempre qualcuno che lo deve fare voi dovete far mai in cazzo voi niente e questo è il primo momento di risveglio ricordatevi che il primo grande attimo di risveglio ce l'avrete solo ed esclusivamente quando non imparerete a ripeterlo a pappagallo non lo leggerete su un libro non lo sentirete da Daniele Penna di turno o da qualche altro giullare che si vende come formatore di turno non da questi ma quando lo sentirete dal profondo di voi e sentirete una consapevolezza in mane che è quella che dice tutto dipende da te tutto dipende da te c'è un premio Nobel che l'ha vinto fondamentalmente con una frase l'ambiente è un'estensione della tua mente la tua vita è un'estensione della tua mente la tua malattia è un'estensione della tua mente il tuo lavoro è un'estensione della tua mente la tua ricchezza o la tua povertà sono un'estensione della tua mente le tue relazioni sono un'estensione della tua mente quando ti prenderai la fottuta responsabilità di tutto quello che cazzo ti accade nella tua vita allora potrai passare in quel limbo che ti porta tra lo schiavo e il risvegliato non passi, non diventi risvegliato, ti fermi a metà cioè in quel momento tu dici ok fermi ho capito adesso ho capito non mi fregate più è tutta responsabilità mia, sono io che attiro tutto, è così ne sono certo cazzo, adesso lo so, sono risvegliato giorno dopo vi tradisce la vostra donna con altro e dice quel bastardo, quella merda, mi hai fottuto la donna, quella stronza, quella troia e non hai capito un cazzo e ritorni ad essere schiavo ecco perché stai nel limbo, perché il limbo non è una conoscenza il limbo è quel posto, un po' come il purgatorio no, del, 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 de quello che ci diceva Dante no cioè l'inferno è dare la colpa agli altri il purgatorio è cominciare a credere che ho attirato tutto io e che attiro tutto io e che tutto è un'estensione della mia mente ma è solo un purgatorio perché te devi purgare da tutte quelle stronzate che ti hanno messo nell'inferno quando quelle cagate saranno purgate vera e propria vera e propria, quindi saranno veramente purgate, proprio come una purga come un clistere di quelli che ti tira fuori tutto forse quando ti accadranno quegli eventi che ti accadranno nella vita a quel punto se davvero reagisci come oh cazzo mi è accaduta sta cosa, come mai l'ho attirata? come mai una parte di me risuona ancora con questa cosa che è accaduta? come mai mi sono attirato questa malattia? come mai mi sono attirato questo tumore? a che cosa mi serve questo tumore? a che cosa mi serve questo tradimento? a che cosa mi serve questa perdita? a che cosa mi serve questo fallimento? allora cominciamo a ragionare allora cominciamo a ragionare allora forse inizia a essere un risvegliato da quel momento in poi diventi un problema diventi un problema per il potere e gli schiavi che stanno lì apposta faranno di tutto per riportarti nella loro loggia nel loro girone infernale quindi tu passi da questo purgatorio c'è Caron Dimonio dagli occhi di Brace che te porta dall'inferno al purgatorio tu lì ci resti in attimo poi qualche angelo te viene a prendere e dice bravo te sei risvegliato adesso puoi venire nella luce e vediamo quanto ci rimani perché non è facile vi posso garantire che già il purgatorio vi posso vi posso garantire che è molto difficile da starci perché è un attimo a ritornare di là perché non è che voi nel purgatorio state lì a purgarvi e basta cioè è un po' come immaginate questa scena di merda perché è la prima metafora che mi viene in mente però se parliamo di purgatorio purghe e cazzate varie la scena che mi viene in mente è che io sto sul cesso a purgarmi di tutte le cagate appunto che ho accumulato in corpo per 20, 30, 40, 50 anni e mentre sto sul cesso lì che mi sto purgando per bene quindi voi ve lo immaginate questa scena proprio di purgo ognuno di voi ha vissuto questa scena prima o poi nella vita arriva un giorno in cui è entrata in bagno che non vedete l'ora purgate di tutto ecco in quel momento arrivano 30 persone che vi vogliono portare via dal bagno a tutti i costi di trascino via via non ti purgare vieni di nuovo qui non hai bisogno del cesso vieni con noi che ci divertiamo di più e voi che state lì che state cercando di purgarvi con tutta sta cosa spruzzo che spruzzo e sporca e via ve ne andate dall'altra parte e non è facile trattenersi quando state lì tutti concentrati per purgarvi di tutto a trattenervi dal fatto di di essere riportati indietro trascinati indietro perché cercheranno in tutte le maniere di trascinarvi indietro tutte le maniere di trascinarvi indietro oppure vi diranno oppure vi diranno che 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 la purga fa male che non serve che poi ti debiliti che poi muori tutte queste cagate qua è vero tutti ci dicono che bisogna affidarci fuori però nessuno ci insegna a fare le cose da noi stessi nessuno ce l'ha mai insegnato ok ragazzi allora vi faccio una domanda Ilenia e a voi tutti quanti di voi da piccoli sono riusciti ad ammalarsi per non andare a scuola secondo me tutti ognuno di noi ha avuto l'esperienza di riuscire da piccolo ad ammalarsi da solo senza aver fatto un corso senza aver studiato medicina senza aver preso una laurea senza essere andato a farsi corsi a 3, 4, 5 mila euro senza aver visto Daniele Penna senza essere iscritto ad Anna Era senza aver fatto una beniamata minchia noi riuscivamo a generarci una malattia immaginaria nel nostro corpo verificabile con dei cazzo di termometri o con della tosse o con della febbre pur di non andare a scuola e allora mi spiegate come cazzo è possibile che a 5 anni riuscivamo ad ammalarci da soli e a 40 non riusciamo a guarirci da soli non mi dite ste stronzate per cortesia che poi mi fate incazzare in senso buono questa è l'ispirazione che vi voglio dare riflettete ragazzi riflettete non è vero che le cose non le sapete fare da soli lo avete dimenticato lo avete dimenticato e questa è la differenza vi hanno convinto che non le conoscete le cose ma in realtà ve le hanno fatte esclusivamente dimenticare ora per questo vi dico non le dovete cercare fuori dai medici le dovete cercare dentro di voi quando le sapevate fare avete dimenticato che vuol dire sognare eppure da piccoli ci riuscivate avete dimenticato che cosa vuol dire essere creativi eppure da piccoli ci riuscivate avete dimenticato che cosa vuol dire perdonare eppure da piccoli ci riuscivate come cazzo è possibile vi deve venire qualcuno a insegnare il perdono qualcuno mi dice ci insegni la tecnica del perdono ma che cazzo state dicendo da piccoli quante volte vi siete scompagnati e poi vi siete riappacificati che cosa cambiava fatelo da grandi fatelo da grandi che dopo che uno vi tradisce col cazzo che riuscite a perdonarlo eppure da piccoli accadeva così che cosa è cambiato che ve lo siete dimenticati siete cresciuti ma siete cresciuti non vi siete voluti è diverso siete cresciuti e vi siete involuti e questa è la grande differenza e questa è la grande differenza quindi non andate a cercare le cose fuori andatele a cercare dentro andatele a cercare dentro di voi perché le avete tutte un buon coach se così si può dire il vero maestro secondo me è una delle frasi che ho sempre detto il vero maestro è quello che ti insegna a non aver bisogno del maestro tu dici allora a che serve il maestro a insegnarti che non hai bisogno del maestro è il principio che nel buddismo ti dice se vedi il buddha per la strada uccidilo perché se tu vedi il buddha fuori di te vuol dire che ne hai capito un cazzo cioè uccidilo quel buddha perché non è fuori di te il buddha è dentro di te il tuo buddha personale ce l'hai dentro siano tutti dei buddini e delle buddha eh no siano siano tutti dei buddini io un po' buddino lo sono ehm capite quindi è questo cioè la mia fonte di ispirazione vuole essere questa non vi dico che è facile ma vi dico che esiste tutto dentro di voi e avete ognuno di voi l'esperienza che questa è verità assoluta non perché ve lo dico io perché ognuno di voi ci è riuscito perché ognuno di voi ha quello che in pnl si chiama stato risorsa ognuno di voi ha delle risorse dentro di sé che aveva da bambino e che ha dimenticato da grande ragazzi il sistema vuole questo che voi dimentichiate voi da piccoli siete connessi col tutto siete connessi con le vostre vite passate siete connessi con le altre persone siete connessi con l'universo siete connessi con gli angeli le madonne gli spiriti gli elfi i folletti i che ne so i nanide biancaneve e biancaneve stessa siete connessi con tutti poi arriva un certo punto d'età 6-7-8 anni che ve disconnettete da tutto ma perché 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 innanzitutto il sistema si è cominciato di una cosa all'asilo le maestre vi mandano subito da psicologo il psicologo chiama vostra madre vostra madre chiama vostro padre vostro padre dicele sì vostra madre dicele sì e voi vi mettono sotto psicofarmaci e vanno fottuto a vita se lo dite a vostra madre dice mamma guarda quell'albero mi sta dicendo così e così ma la vostra madre ce la senti smettila vai a giocare con l'iPhone dai forza non rompi i coglioni tu e gli alberi gli alberi non parlano vedi che non parlano e lei dice mamma ma dove veramente sta parlando mi sta dicendo che tu non capisci un cazzo no che cazzo sei l'albero non capisce un cazzo quello non parla e che dire così quindi comprendete che il sistema nasce per stordirci nasce adesso sempre di più mettiamo i telefonini in mano ai bambini così non pensano manco più a parlare all'alberi e buonanotte quindi il è questo il principio cioè smettete di cercare fuori di voi questi flow devono servirvi come ispirazione non come formazione come semplice ispirazione tanto per ricordarvi che davvero le cose non ci dovete perdere tempo fuori questa deve essere la vera fonte di ispirazione smettete di perdere tempo a lamentarvi per quello che accade fuori smettete di perdere tempo a dare la colpa agli altri smettete di perdere tempo a sperare nel giudizio degli altri fottetevene abbiatamente di tutto e di tutti ma state dentro di voi a ricercare quello che serve non quello che vi serve per avere ragione o per diventare più potenti ma per andare a trovare quelle soluzioni che avete ricordatevi un problema non può nascere se non c'è già una soluzione soluzione e spesso e volentieri il problema è la soluzione la soluzione è già all'interno del problema quello che chiamate il problema in realtà è la soluzione a qualcosa che voi non riuscite a risolvere quindi è già tutto dentro di voi solo che vi hanno mandato vi hanno confuso mi hanno confuso e mi ci metto anch'io ma anzi sempre di più ci hanno confuso sempre di più in maniera tale da cercare fuori e voi la sapete la storia la storia di quel tizio che sto vecchietto durante la notte stava lì tutto accovacciato a terra sotto un lampione cercava 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 stava lì a cerca allora si avvicina un passante dice non è che è successo ho perso le chiavi di casa e già allora ti posso aiutare e si è messo a cerca pure lui e si sono messi a cercare a cercare a cercare sotto sto benedetto lampione cercavano sti chiavi poi dopo un po' che non l'hanno trovata il passante dice scusa non è ma dove hai perse sti chiavi le hai perse qua no le ho perse dall'altra parte però qua c'è luce ci siamo cioè non cercate le cose dove qualcuno che vi vuole rendere schiavi o che viaggiare su schiavi vi illumina cioè se voi le cose le avete dentro di voi ma vi illuminano il posto fuori di voi voi cosa fate le andate a cercare fuori di voi perché dentro di voi è buio è brutto e cattivo oppure ci sono i demoni oppure ci avete paura oppure ci avete paura perché non conoscete una minchia di quello che avete dentro è questo questa breve storiella racconta un po' quello che fanno vi dicono cerca lì guarda guarda come è illuminato lì c'è sicuramente la soluzione nella medicina nella formazione nella psicologia nella finta scuola nel terrorismo nella 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 nello stato di guerra e di polizia questa è una delle tecniche di confusione più più semplici proprio l'altro giorno stavo facendo questo esperimento con una persona qui stavamo in un supermercato volevo evitare che vedesse una cosa che era palesemente sotto i suoi occhi e nel momento in cui i suoi occhi sono passati proprio lì ho cominciato a confonderla e a distogliere la sua attenzione in modo tale che se anche gli occhi l'avessero vista la mente non lo poteva riconoscere e infatti non l'ha visto dopo gli ho dovuto far vedere dove stava eppure aveva asserito con assoluta certezza che quella cosa lì non l'aveva vista e vi posso garantire che era qua cioè era impossibile non vederla gli occhi si erano fermati lì sopra ma con la giusta confusione col giusto distoglimento dell'obiettivo con lo distoglimento del focus la mente gli occhi non vedono cioè gli occhi non vedono di loro il fatto che io possa avere un occhio puntato adesso sul monitor non vuol dire che io sto leggendo il monitor è la mia mente che permette di interpretare i segnali che vede l'occhio e se la mia mente viene viene defocalizzata da qualche altra parte non vedrà una beniamata mazza neanche se ce l'ha davanti agli occhi è questo il bello e questo è un concetto della nostra mente i nostri sensi sono degli strumenti di input esattamente come nel computer la tastiera non vive da sola se non siamo noi a mettere qualcosa sopra la tastiera non batte niente ma Daniele dice bisognerebbe smettere di puntare il dito verso gli altri e puntarlo verso i noi ma se ci pensi quando la cosa interessante del dito puntato dice questo che se io punto il dito di qua per un dito puntato di là ce ne sono tre puntati di qua quindi provate a puntare un dito a una persona se tu fai questo lavoro qui un dito è puntato verso di te e questi tre sono puntati verso di me quindi è semplice la risposta no? spero che stiate comprendendo un po' la strada da prendere ed è una strada molto più interiore piuttosto che esteriore ed è una strada di silenzio piuttosto che di di casino di caos è una è un un percorso conoscitivo con le persone dentro di noi piuttosto che di quelle fuori di noi molti di noi hanno paura di essere abbandonati ma sono i primi ad aver abbandonati i propri i propri bimbi interiori i propri personaggi interiori le proprie parti interiori ognuno di noi ha decine a volte centinaia di parti ognuno di questa parte può essere può essere veramente interpretata da una può essere interpretata da un vero e proprio personaggio nel mio mondo immaginario interiore quello da da psicofarmaci pesanti se mi sentissero ho diversi personaggi ognuno di loro con una cosa ho la mia parte creativa ho la mia parte guaritrice o i miei o i miei angeli buoni o i miei angeli cattivi o i miei demoni o i miei maestri o i miei sciamani o i miei animali guida ognuno di loro con una forma con un'identità con un nome con una presenza con delle capacità con delle abilità con una voce pensate che troiaio che c'è nella mia testa poi dici perché stai da solo non è micchia da solo è un parolone c'è tutta sta gente dentro se devi curare anche se soltanto devi passare ogni tanto da loro per dire ciao e c'è già tutta la giornata perché ciao a uno c'è un altro poi c'è da quanto tempo che hai fatto via qua abbiamo se non spritzi dice o sciamano quella dice no ma come ho spritzi quello te fa male dice quell'altro guaritore la parte creativa dai famo uno spritz diverso invece che con lo spumante famolo con la vodka che cazzo insomma tutto sto bordello nella mia testa accade quando li vado a trovare l'unica cosa che mi interessa oggi come oggi e potrei dire condividere ma condivido punto non mi interessa come viene recepito condivido e basta ma condivido soprattutto per me perché se non avessi fatto questa chiacchierata con voi oggi questo flusso non sarebbe arrivato non è preparato io ieri ho avuto un momento di risveglio ma un momento di risveglio è un qualcosa di estremamente sensoriale quindi è qualcosa che senti dentro non è qualcosa che senti a parole oggi ho messo infatti poi me lo vorrei risentire ho messo ho messo in parole quelle sensazioni di ieri e di oggi infatti tra ieri e oggi ho dormito pochissimo tra l'altro ho dormito forse tre ore perché avevo la mente o la mente in subbuglio subbuglio serio cioè il subbuglio è quello che è quando è come se prendi veramente un pugno in faccia e la mente il cervello si era incoglionito dentro e va in subbuglio da questo subbuglio ho messo un po' di chiarezza oggi e e spero che sia servita a tanti di voi la mia nuova modalità sarà questa cioè sempre la stessa però voglio essere meno cinico ma voglio essere cinico abbastanza da farvi comprendere che non è semplice ma che non è impossibile cioè il principio di fondo è tutti possiamo risvegliarci che cosa vuol dire risvegliarsi? ragazzi sapete che vuol dire vivere una vita da sveglio? vuol dire che non stai più nell'inferno degli schiavi vuol dire che non ti possono più controllare vuol dire che sei intoccabile vuol dire che te ne freghi del giudizio vuol dire che te ne freghi di tutte quelle cagate dell'abbandono te ne freghi del del possesso te ne freghi della gelosia te ne freghi di tutte quelle cagate che che possono essere che possono essere tipiche degli schiavi nel purgatorio ti purghi e dopo passi dall'altra parte il purgatorio non è semplice devi purgarti purgarti vuol dire diventare consapevole davvero di tutta la merda che hai dentro e buttarla fuori ma per diventare consapevole della merda che hai dentro passami il termine non la puoi cercare fuori fuori è solo uno specchio fuori ti serve per mostrarti per riflettere quello che tu hai dentro se tu dai la colpa fuori o la responsabilità fuori stai nascondendo ti stai ti stai impedendo di crescere ogni volta che voi puntate il dito su qualcuno vi state impedendo di crescere e questo è un fatto di cui secondo me è la cosa più importante ricordatevi la logica del follow the flow tutto accadrà per un motivo e tutto avrà un significato per te che lo stai ascoltando ma solo se davvero lo starai ascoltando solo se davvero riuscirai a percepirlo questa è la cosa interessante quindi attenzione su cosa portate la vostra attenzione il flotto l'ho inventato io certo per osservarvi e anche per premiarvi ma non fatevi distrarre perché ricordatevi che la vita è quella cosa che accade mentre siete distratti a fare qualcos'altro e a volte potrebbe essere quell'illuminazione che vi passa davanti mentre siete distratti a vedere la nuova lettera del flotto questo è quello che è accaduto ieri a me quando mi sono reso conto di come ero finito di nuovo nello schema del sistema stesso cioè fondamentalmente mi aveva portato ad arrendersi usando in maniera consapevole inconsapevole quello che è sempre stato fatto ok? bene l'ho compreso aspetta ritorno al mio purgatorio cioè tu mi stai portando nel mondo degli schiavi tu vuoi controllare la mia mente facendo accadere quello che hai sempre fatto accadere a tutti quelli che in qualche modo hanno cercato di rivoluzionare attenzione interessante la parola rivoluzionare perché la base è rivoluzione e ricordiamoci che forse sarebbe la grande soluzione una rivoluzione ma ormai non si dovrebbe più chiamare non si dovrebbe più fare una rivoluzione partigiana come hanno fatto i nostri nonni e come hanno buttato il sangue per avere quest'Italia che adesso sta andando a puttane o questo mondo che sta andando a puttane ma una rivoluzione ad un altro livello usando il usando la stessa tecnologia che il sistema ci ha dato non usando le armi perché tanto avremmo già perso ma noi abbiamo qualcosa di più per creare una rivoluzione vera e propria pacifica che non deve essere una rivoluzione armata non deve essere una rivoluzione sopprimibile con la polizia o con i droni che ti sparano in testa dovrebbe essere una rivoluzione psicologica dovrebbe essere una rivoluzione interna prima di tutto perché tanto ragazzi è inutile voler rivoluzionare le cose fuori se il sistema è dentro di noi quindi partiamo prima di tutto usciamo prima di tutto da questo da questo inferno di schiavitù comprendendo quali sono i nostri le nostre catene le nostre manette i nostri legami dopo che ci siamo liberati da quelle possiamo sperare di cambiare qualcosa attorno a noi e la rivoluzione attorno a noi non è che la devi fare cambiando il mondo comincia a dare l'esempio a tuo figlio a tuo marito a tua moglie a tua madre ai tuoi amici al tuo capo non devi rivoluzionare sii un esempio basta non devi raccontare quello che ti hanno raccontato i libri non devi raccontare quello che ti ha raccontato Daniele Penna sul flow numero 64 di un'ora e 52 minuti e ancora sto a parlare non serve tanto saranno chiacchiere è inutile dire ah perché nulla accade a caso e poi appena ti bucano una gomma di macchina giù te incazzi come nulla accade a caso è tutto perfetto così e mo te incazzi per la gomma diventi incoerente allora è inutile parlare parlate meno usate meno la bocca e usate più i comportamenti usate più le azioni fate parlare le azioni le chiacchiere stanno a zero quindi non dovete stare lì domani a dire ah l'inferno il purgatore il sistema i scecchini i droni i cazzi i mazzi sì sono discorsi da bar sono discorsi da fare di fronte a uno spritz sono discorsi da fare di fronte a uno spritz allora se vogliamo discorsi da fare di fronte a uno spritz durante questi flow ci avrete un boh vi sto facendo anche le domande le risposte le perle c'è un sacco di roba di cui potete parlare di fronte a uno spritz ma non serve la vostra rivoluzione fatela dentro di voi lo diceva anche Vasco guardate il video ma soprattutto ascoltate la canzone cambiamenti una del forse secondo me una delle più belle canzoni di Vasco c'è una parte dove dice che quella interiore è quella più difficile la rivoluzione interiore è proprio quella più difficile il cambiamento interiore è quello più difficile ma si può fare il fatto che sia difficile non bisogna arrendersi non bisogna portarsi ad arrendersi non ho detto non ho detto che è lungo e ho detto che è difficile ma è difficile perché in qualche modo presuppone impegno come tutte le cose che presuppongono impegno soltanto quelli che avranno più disciplina riusciranno a raggiungerlo la maggior parte degli altri mollerà a metà a metà un decimo un quinto la mente è così quindi se volete diventare un campione di voi stessi un campione ma non in competizione con gli altri un campione della vostra vita la la vostra rivoluzione fatela dentro di voi parlate meno fuori cazzeggiate di meno non c'è bisogno fatevi meno selfie fate una selfie di quello che avete dentro se ci riuscite se le persone impegnassero a fotografarsi dentro e a guardarsi dentro così tanto quanto si guardano fuori si scattano le selfie uff questo mondo sarebbe migliore dovrebbero inventare una macchina fotografica che ci fotografa dentro non fuori e vorrei vedere quante persone si truccherebbero meno fuori e userebbero quel tempo per guardare quelle parti di loro abbandonate letteralmente abbandonate a marcire dentro da anni da decenni che non vedono l'ora che qualcuno vada lì dentro e gli dica oh chi sei come stai e quando è che tu ho abbandonato a te quando è che mi hanno costretto a dimenticarti di te da quando è che non ti ascolto più da quando è che ti ho ti ho tappato ti ho nastrato la bocca per evitare che tu parlassi da quando è che mi tappo le orecchie ogni volta che tu parli o sussurri o strilli dentro di me mi tappo le orecchie che c'è